In Dorico possiamo inserire la diteggiatura cliccando sull'apposita icona o premendo la combinazione di tasti Shift più F. Inseriamo il numero e, premendo invio, il numero comparirà sulla nota. Diversamente per diteggiare bicordi o accordi separeremo i numeri dalla virgola e senza spazi. Se utilizziamo la lettera R o L, Dorico in modo automatico inserirà il numero sotto o sopra le note in base alla mano destra o sinistra. Una serie continua di numeri, Dorico la interpreta come una diteggiatura per abbellimenti. Scrivendo due volte lo stesso numero, Dorico interpreta che due note verranno suonate con lo stesso dito. È possibile inserire una diteggiatura alternativa tra parentesi tonda o quadra. Inserendo un trattino tra i numeri si inserisce la sostituzione di diteggiatura. Entrando in opzioni tipografiche è possibile scegliere il tipo di visualizzazione con trattino o con parentesi rovesciata. Trascinando dal cerchietto o dal menu apposito è possibile allontanare il numero del dito. Per modificare il numero del dito basta reinserirlo oppure modificarlo dall'apposito menu delle proprietà. Per toglierlo basta disattivare la voce, dito e posizione. Dorico è in grado di capire la diteggiatura di una nota legata per cui non c'è bisogno di inserire il dito di quella nota. Naturalmente è possibile scegliere se vedere o no la parentesi dalla finestra delle opzioni tipografiche. In modalità tipografia è possibile modificare il grassetto entrando nelle opzioni tipografia. Mentre il font lo si modifica entrando nel menu stili dei caratteri. l'indordu. wordpare un stadia un stadia Grazie a tutti.